Oh, c'ho la villa bloccata da tre mesi, mi avete detto che era una cosa liscia, ma non me pare. E poi pure sto in via adesso. Non sai quanto mi costa tenere chiuso il cantiere? Una cifra! Senta Bracciali, lei ha costruito abusivamente in zona archeologica. È già un miracolo che siamo riusciti a far accettare il ricorso. Ne so, miracoli che se paghino. Sarei saputo che mi costevate così tanto. Me ne sarebbe costruita un'altra di villa! Bracciali, lei già deturpa il paesaggio. Perlomeno mi risparmi ti. Comunque se desidera revocarci il mandato faccia pure. Ma finché si farà rappresentare da noi ci lasci condurre la causa come crediamo. Ora se non le dispiace ci vediamo in aula. Ambe di questa.